ragazzi vi mostrerò qualche libro questa bellissima coperta che è una copertina di alexander dumas intanto potrebbe sembrare che questo canale flexi cioè quello che oggi viene chiamato flexare no che è un po un dispregiativo del provare provarci cioè noi proviamo mettiamo qualche video sul web magari facciamo i soldi magari cambia tutto è ovviamente questo fatalismo non produce in effetti niente perché i miracoli non esistono almeno possono esistere però non possono esistere miracoli derivati da un flexare quindi oltre a non fare intrattenimento non dovremmo neanche come si dice otternamente flexare cioè provarci provare a mettere qualcosa a fare le visual fare chissà cosa per far cosa poi vabbè comunque vi mostro appunto qualche libro che ho flexato cioè mi sono fatto quasi regalare da insomma ho dato un'offerta di beneficenza nella in un diciamo in una rigattieria come si può chiamare insomma un posto dove hanno dei libri antichi libri vecchi eccetera in attesa magari di portarne qualcuno e commentarlo nel gruppo di lettura della biblioteca vabbè questa è un'altra storia perché a parte alcuni di voi non penso siate di queste zone eccetera eccetera vabbè abbiamo istruzioni per l'uso istruzioni per rendersi infelici di paul vatslavic feltrinelli che sembra in effetti un bel libro perché intanto per questa contraddizione questo simoro un po ricorda il perec di istruzioni per chiedere al proprio capo quello di perec istruzioni sulla vita istruzioni per la vita come come insomma ora non mi ricordo il titolo esatto di george perec dell'ulipo parigino in questo caso si tratta di uno psicologo di palo alto che parla della psicologia diciamo che a me non piace neanche troppo cioè post cognitiva cognitivista comportamentale che però è molto interessante perché da dei metodi diciamo contro intuitivi per rendersi infelici e quindi di contrappeso l'infelicità come diceva anche lorenzo chierenghi nei suoi aforismi degni di un chioran e lo ripetiamo perché ne vale la pena degni di un chioran eccolo qua uno dei suoi libri per a b editore editore originalissimo l'infelicità è la base della vita e quindi anche della felicità stessa o comunque della soddisfazione addirittura l'infelicità in questo caso si tratta invece di psicologia poi di psicologia proprio scientifica diciamo così o comunque presentata con una struttura molto scientifica poi abbiamo sempre feltinelli stessa annata stesso editore alexis di yours and are yours and are cosa diceva brevemente vediamo che stiamo flexando attraverso libri in maniera breve però proviamo invece a soffermarci qui abbiamo un bellissimo dipinto di munch di munch di edward munch che insieme all'altro edward hopper è amatissimo da me e alexis racconta di un uomo che appunto ha vissuto una storia d'amore molto intensa ma si scopre poi essere si scopre lui stesso in questa omosessualità cioè il suo vero se stesso nasce nell'omosessualità mentre prima portava una maschera sembra una storia come tante sappiamo anche una storia banale che oggi accade però presentata così potrebbe sembrare una scritta dalla margherita di orsenar è straziante e anche abbabbacinante cioè crea dei delle spaccature di illuminazione per come l'ho letto io di verità almeno me ha fatto questo effetto poi abbiamo le poesie di persebis shelley tra cui una scelta non tutte però alcuna è dedicata per esempio americ chiaramente è mary shelley cioè a quanto mi ricordo la moglie di shelley o una compagna di shelley che aveva scritto frankenstein mentre shelley diciamo di fantascienza non ne scrive sua moglie sì e scrive invece poesie come sappiamo abbiamo visto anche l'ultimo ragazzi del vento con shelley baron e kids kids tra l'altro ma non john kids ma butler william butler kids ha tradotto anche essendo lui un poeta immaginifico visionario le uspanishad hinduiste vabbè questa è una curiosità così vita di galileo bertol brecht mi è stato bertol brecht mi è stato consigliato questo pezzo di teatro un po diverso però dal solito teatro che interessa a me a parte che il teatro non mi interessa rime di guido cavalcanti poesie di george treckel canzoni medievali in antico spagnolo e poi ora non lo vedo però canzoni in spagnolo moderno quindi di rafael alberti rafael albert che ora mi sfugge dove l'ho messo poi abbiamo mario benedetti poeta che sto leggendo fantastico veramente veramente fantastico e poi abbiamo questi romanzi di successo abbiamo messaggio per un'aquila che si crede un pollo van gogh con la pipa anch'io sto fumando la pipa in questo periodo è un testo fondamentale di lisbeth andrea van lisbeth sullo yoga qui abbiamo la mia collezione di polaroid abbiamo flexato con alcune immagini prese da lui da quadri oppure questo per esempio sono io che suonio il pianoforte in irlanda questo qui coi capelli lunghi seduto al pianoforte e questo un pianoforte a coda dentro una chiesa una cappella sconsacrata questo invece genova poi andiamo a vedere ancora altre collezioni di polaroid questo sono io con i miei strumenti musicali questo è sempre genova un collage di genova bene direi che abbiamo flexato però vi voglio veramente consigliare questi libri lorenzo chiereghini abbiamo parlato raffael albert al momento sedato alla fuga o alla figa mario benedetti non ha bisogno di presentazioni lo sto leggendo nel canale perché è incredibile antonio delfini altro poeta satirico e assolutamente anarchico questo va bene lo conosciamo il saggio è sto leggendo parecchio da da questo libro di reyes ma anche da quel più di cultura diciamo così underground questo qui c'era una volta l'amore ho dovuto ammazzarlo che potrebbe riferirsi come dice il retro di copertina a cobain o meglio a sid vicius quindi il punk e il punk rock questo invece sul pesce ghiaccio il nome di un bar il pesce ghiaccio ed è un romanzo assoluto fantastico quasi a livello di robert art art robert art tanto per capirci eccolo qua robert art robert art abbiamo studio pericoli ritratto degli scrittori questo l'abbiamo già visto scarualdo va bene e poi emingway emingway lo sto leggendo io vi saluto perché il nostro tempo è scaduto come dicono gli psicologi e ciao